Eccoci qua, benvenuti a tutti e benvenuti a questa nuova serata in Confindustria Bergamo, una serata che sa di terza tappa del nostro viaggio nel mondo della governance. Se siete qui è perché avete ricevuto un invito, quindi quell'invito ha funzionato nell'attrarre la vostra attenzione e avervi qui ma anche da remoto perché abbiamo anche aperto la possibilità di dare appunto questi spunti anche da remoto in chi per un motivo o per l'altro non riesce a venire e comunque la possibilità di dare questo tipo di spunti e di riflessioni anche per chi ci segue da casa o verosimilmente magari dall'ufficio o da qualche sala a riunioni. Quindi è bello rivedervi, questa sera è un focus molto particolare, un tema sempre verde che è quello della questione generazionale. Io ringrazio subito Luca di Ambrosetti che poi ci darà qualche spunto interessante, insieme a lui Angelo e Pietro, gli imprenditori che poi insieme vedete qualche indizio c'è, l'intervisterò un po' qualcuno ha scomodato Bruno Vespa, lungi da me dall'esserlo ma vi prometto che ci metterà tutto il mio impegno perché questo tipo di format nel concetto di governance orientata al generare valore idealmente all'infinito è fatta di testimonianze, noi vogliamo avere a fianco dei partner specializzati su questo tema come oggi lo è Ambrosetti ma anche delle testimonianze che subito aggancino quel tema in qualcosa di concreto della serie Come hai fatto tu? Infatti una delle domande che anticipo ad Angelo e a Pietro è ma come hai fatto tu a fare questa cosa? Perché non è mai come una teoria applicata che puoi generare e non riflessioni, uscendo da questa porta l'obiettivo di questa sera è che vado a casa, vado al lavoro, ci penso un attimo e magari qualche spunto in più mi viene proprio anche concreto Anche il simbolo che abbiamo voluto dare al nostro progetto è dentro di sé il senso perché alla premessa di quello che abbiamo fatto fin dall'altra serata che abbiamo fatto il 18 aprile abbiamo iniziato insieme a Matteo Marzotto, ospite speciale che qualcosa di generazionale anche lui ha avuto ben da dire Poi abbiamo fatto un passaggio sulla governance livello più specifico M&A quindi perché crescere anche in modo non solo organico ma per linee esterne perché accedere a un'apertura del capitale, che cosa significa per la continuità del business e oggi andiamo, atterriamo in questa terza tappa del nostro viaggio appunto sulla continuità generazionale Dicevo che un po' la premessa per capire questo percorso è proprio questa qui è quello che un po' Sinek ci suggerisce è che qui mi viene da dire che davvero ciò che conta non si conta spesso è così, chi se ne importa chi vince o chi perde dal punto di stagione nazionale sapete anche tra padre, figlio, nipote, tu hai ragione, ho torto, tu hai ragione, io ho torto ma in realtà se alziamo lo sguardo con lo sguardo dell'impresa che continua nel tempo non c'è torto o ragione dal punto di vista generazionale ma dobbiamo insieme creare come l'azienda continua nel tempo quindi questa è un po' la premessa altrimenti tutto perde di senso perché se dovessi chiedere a ciascuno di noi chi ritiene essere questo tema importante alzi la mano, io immagino che in molti alzerebbero la mano come importanza, vero? Non solo io, Luca e Matteo, giusto? Chi ritiene questo tema importante e strategico? Chi sta attuando un piano di continuità generazionale? Ah, diciamo un 15% circa, ok? E io mi chiedo, ma rispetto al 100, ma perché? Dov'è l'altra percentuale? Perché non si sta facendo? E bravi complimenti per chi lo sta facendo anzi poi faremo dei tavoli di lavoro può essere nei prossimi mesi per capire chi lo fa, perché lo fa e come ci riesce perché deve essere così noi Confindustria vogliamo che sempre più questo senso anche di come posso dire, di continuità ma anche di valore che generiamo sia davvero un po' culturalmente un pochino più manifestato un pochino più sul tavolo perché in realtà spesso accade che quando abbiamo pensato a questo progetto l'abbiamo pensato un po' come un vestito su misura è un po' un nuovo ruolo che Confindustria vuole anche vestire nei confronti dell'associato è chiaro che quei verbi seguono quasi in modo logico cosa accade ci incontriamo c'è qualcuno che ci affianca nel suggerirci o nel farci vedere delle esperienze diverse dalle nostre potenzialmente preziose ascoltiamo comprendiamo se rispetto alla nostra strategia può avere senso rispetto al futuro c'è una proposta e poi generiamo delle opportunità fondato sulla testimonianza il focus group è quello che vi ho accennato prima sulla possibilità di approfondimenti che queste serate siano un po' un aperitivo a qualcosa che accade dopo qualcosa che accade dopo li pianificheremo anche nel 2024 sono dei focus group in cui ad esempio potete rispondere a un'email che vi arriva entro 24 ore dalla serata di stasera addirittura per capire insieme a voi quali sono i temi sulla governance che più vi interessano perché in base a quello che ci rispondete faremo dei focus group con degli inviti specifici e in realtà come obiettivo è anche quello di generare qualcosa di tangibile nel tempo noi questo è un documento stampato che abbiamo generato Bergamo il covid delle imprese e gli imprenditori lo facciamo proprio nel momento post covid c'era un momento di rompente in cui ci siamo sentiti anche nell'intimità dell'essere imprenditori di incontrarci cosa stai facendo tu quali pensieri hai avuto che azioni stai mettendo in pista nell'organizzazione per e qui in modo tangibile abbiamo insieme a un partner condensato alcuni numeri alcuni valori e le nostre azioni sarebbe bello intitolare Bergamo la governance le imprese gli imprenditori questo è un po' il nostro obiettivo e per farlo ci lavoriamo sopra insieme perché se qualcuno lo legge o qualcuno si contamina della cultura che abbiamo generato stando insieme questo è il vero obiettivo del nostro progetto governance chiaramente non siamo da soli noi ci permettiamo di affiancare l'impresa e l'imprenditore anche con i professionisti che già ci sono nell'impresa i nostri commercialisti o gli specialisti professionisti che già abbiamo nella nostra impresa perché no e magari anche in base al tema come oggi c'è Ambrosetti ieri c'era KPMG in base ai temi e ai focus insieme proprio come una vera comunità professionale generiamo quello che potrebbe essere una proposta per generare business continuity ecco vi ho dato un po' il senso e anche un po' lo scopo e gli obiettivi per cui lo facciamo perché poi non vogliamo fermarci qui vogliamo anche condividere quando uno dice legge tutti i giorni governance vogliamo fare anche un minimo di cultura un minimo di orientamento ci siamo sentiti di condensare cos'è questa governance non è che l'azienda nata negli anni 60 improvvisamente fa la governance e per più di 40 anni non l'ha fatta per 50 anni non la fa è un po' un concetto di fare come posso dire meglio quello che siamo capaci a fare facciamola meglio quel meglio vuol dire avere un po' più di metodo un po' più di metodo cosa vuol dire vuol dire che dobbiamo condividere un po' di più insieme i valori certo dipende anche chi sono i proprietari potrebbe essere una sessione di confronto sia tra proprietari o proprietari manager dipende dal livello dell'azienda dalla complessità che ha spesso il proprietario è anche il manager ma guardarsi negli oschi e dire ma se oggi siamo fino a questo punto dopo 60 anni di vita ma cosa ci ha fatto rimanere in piedi nonostante le mille incertezze e turbolenze il senso per cui continuiamo cos'è diciamocelo padre figlio nipote zio diciamocelo perché nella vortice nella lavatrice quotidiana non accade questo mediamente o difficilmente accade che visione abbiamo missione chiaramente possibilmente condivisa anche con chi ci sta intorno a noi ok e poi chiaro che il tutto dovrebbe trasformarsi in una strategia in un piano industriale ecco dove il metodo perché poi sottointende il fatto che lo metto a terra con un po' più di disciplina con delle regole e la cultura sottostante è la cultura del rischio perché se io imprenditore ho mente dove andremo tra cinque anni o quale mercato apriremo e mi viene uno starnuto lì c'è un rischio come mappo perfettamente il rischio di una consegna mancata di un prodotto dovrei mappare esattamente quale rischio se non considero che potrebbe accadere qualcosa quindi a quel punto il metodo ci suggerisce questo tipo di passi abbastanza logici di per sé e non è che non lo sappiamo fare forse dobbiamo farlo un pochino più in modo strutturato e condividendolo con chi sta intorno a noi anche con i nostri professionisti e perché si fa perché mediamente oggi lo avvertiamo il buon Pontremoli qualche anno fa in una delle nostre assemblee l'assemblea ce l'aveva detto l'intreccio tra incertezza e velocità di cambiamento crea il caos sempre più lo viviamo tutti i giorni questa sensazione e come poter un po' snocciolarla e creare più chiarezza di fronte a questa incertezza ebbè non certamente stando da soli sulla scrivania perché io ho un'idea ma se potessi metterla in pista con altre persone potrebbe nascere anche un'idea che non avevo mai pensato o anche un metodo diverso quindi il poter poi strutturare un'organizzazione per generare l'opportunità a fronte della minaccia un po' quasi la proprietà fisica della plasticità dei materiali no? E perché si fa? Perché c'è un concetto anche di dovere quasi una parola quasi che un po' scompare non è di moda il dovere è un po' più di moda il diritto però peccato che il diritto non sta in piedi senza il dovere che lo sostiene e allora ogni tanto mi viene da pensare anche verso il giovane che comunque sta per intraprendere anche un percorso generazionale di successione anche un po' di sano senso del dovere io lo metterei perché ciò che è stato generato e se noi ci sediamo ancora oggi su una ricchezza del nostro sistema territoriale imprenditoriale ancora mediamente ricco nonostante questi ultimi anni di 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 cultura c'è anche un po' di sano senso del dovere di continuare questa ricchezza di trasformarla di svilupparla innovarla adeguarla ma certamente di continuare con un sano senso del dovere leggevo una forse di un paio di anni fa o dell'anno scorso non mi ricordo una una ricerca della dell'università cattaneo insieme anche al centro il nostro centro sulla family business dell'università di bergamo avremmo preso un campione di più di 500 studenti 25 anni quindi al termine praticamente quasi già finito di fatto il loro percorso di studi quindi un bel campione statisticamente insomma alla domanda quanti avrebbero continuato quindi entrando in azienda all'anno t1 quindi subito dopo l'università avevano risposto sì il 4% quanti entro i 5 anni qualcosa me lo confermerai nei dati Luca il 5% quindi 4 più 5 9% quindi il 9% fatto 100 gli oltre 500 studenti ragazzi laureati avrebbero risposto di entrare in azienda tra gli 0 e 5 anni quindi tutti gli altri non avevano previsto di entrarci infatti l'articolo era un po' il concetto una crisi generazionale se per crisi si può intendere il fatto che dal punto di vista della dipendenza familiare non c'è una continuità e poi vedremo invece che non ci fermiamo a quell'analisi lì c'è un concetto di apertura del board c'è un concetto di apertura la managerializzazione perché l'azienda è un ente sopra noi quindi uscire un po' dal sano egoismo imprenditoriale e guardare che quell'essere ente giuridico non è un ente fisico lui quell'ente giuridico deve continuare indipendentemente da me a volte io mi definisco un custode anch'io sono imprenditore anch'io la mia azienda terza generazione mi definisco un po' come un custode no? ho ereditato un qualcosa di buono di sano e il mio compito per un certo periodo di tempo determinato è restituire quel soggetto giuridico meglio di come l'ho trovato questo è il compito quasi un custode temporaneo di un qualcosa che deve continuare forse è anche un po' questo quello che mi sento di condividere il senso della business continuity perché? perché c'è anche un concetto di convenienza ci sono degli approcci di maggior credito concessione del credito se attuiamo un certo tipo di attenzioni soprattutto dell'ESG perché se i managerializziamo l'azienda ci sono più idee c'è più struttura c'è più organizzazione se aderiamo a certi tipi di approcci ESG anche lo stiamo scoprendo in questi mesi qui anche i clienti continuano a premiarci a volte addirittura ci sono approcci in questi mesi che o ti adegui e rispetti un certo tipo di rating ESG oppure rischi la continuità di fornitura quindi conviene anche nella sostenibilità dell'azienda stessa e poi perché è obbligatorio punto questo è un po' meno romanzata fine punto quindi è perché prima o poi anzi più prima che poi ci arriva addosso nel concetto della catena di fornitura quindi della responsabilità che hanno anche i nostri clienti nei confronti della catena quindi la condivisione è proprio il senso spero di averlo rinfrescato per chi già c'era nelle altre serate e chiarificato per chi magari è la prima volta che si siede qui o per chi ci sta sentendo direttamente da casa il verbo è sempre quello è crescere e quindi insieme a Luca che chiamo con piacere al microfono o come ti senti più a tuo agio lo prendi viaggi cammini fai come fai come ti senti più a tuo agio e insieme a lui vediamo e insieme anche l'esperienza che ha maturato in tutti gli interventi professionali finché ha fatto un po' spero quello che ho iniziato ad accennare che magari con qualche informazione ancora più precisa ci dai modo di approfondire io prima di darti la parola ricordo solo una cosa un po' più tecnica siccome ci piace comunque rendere questo momento interattivo magari chiedo al volo la slide in cui si vede un QR code e se avete piacere di porre delle domande o di scriverceli io qui le vedo in diretta così senza magari o interrompere o eventualmente vi viene in mente invece di appuntarvelo sul vostro note cartaceo che vi abbiamo dato l'ingresso magari potete scrivercelo e vi viene in mente qualche idea che posso dire che potete fare sia a Luca sia a Pietro e Angelo quindi diteci se qualcosa non funziona vi inquadrate il QR code e una volta inquadrato dovrebbe accedere alla piattaforma poi magari la regia mi assisterà qualora qualcuno o qualcosa non andasse bene Luca che dici hai le tue slide quindi a questo punto vediamo se ce le mettono in onda e a questo punto possiamo vediamo un po' il tuo microfono eccolo c'è c'è allora innanzitutto grazie Marco per avermi invitato e per la bella introduzione l'idea che si omigliava a Bruno Vespa l'ho detta io così svelo subito l'arcano grazie ovviamente all'architetto Angelo Maiocchi per aver accettato l'invito e al dottor Pietro e Geremia altrettanto perché poi io penso che la parte più interessante per voi sia condividere e ascoltare le storie imprenditoriali però Marco mi ha chiesto di fare un'introduzione mettendo un po' di dati anche se io non è che di lavoro faccio lo statistico e quindi vabbè e poi un po' di elementi su esperienze bucce di banana e magari linee guida che è utile avere inizialmente e lo ve lo dico per un sollievo Marco mi aveva detto ma secondo me tu potresti fare 45 minuti ho detto no faccio molto meno quindi cerco di essere breve perché serve veramente a tirarla volata le chiacchierate i racconti che faranno Angelo Maiocchi e Pietro Geremia al dibattito e spero poi anche a qualche domanda da parte vostra se poi durante il dibattito avete domande alle quali potrebbe essere utile anche il mio commento e la mia risposta mi farà piacere anche perché molti di voi magari sapranno che noi come gruppo Ambrosetti organizziamo quello che chiamano il forum di Cernobbio tra le altre cose e un po' di anni fa parecchio ormai anche perché i capelli bianchi si vedono a uno dei nostri forum di Cernobbio partecipò Carlo Azzeglio Ciampi e disse una frase che a me piace molto che è ma spero arrivino delle domande perché quello che posso dire io già lo conosco quello che potreste dire o chiedere voi no e quindi magari è la volta buona che imparo anch'io qualcosa e quindi io l'ho fatta mia e mi sembra una cosa interessante fatta questa premessa io cerco di raccontarvi quattro cose quindi alcuni numeri quali sono secondo le nostre esperienze gli errori più frequenti quali sono alcune linee guida da tenere presenti e poi alcune aree strumenti concreti sui quali ragionare e lavorare insieme prima di parlare di alcuni numeri nel family business dico alcuni numeri nostri su questo tema noi nell'anno 2022 abbiamo lavorato con 107 famiglie imprenditoriali su questi temi ce ne occupiamo come azienda da più o meno 30 anni poco più perché era fine anni 80 quindi ho messo in quasi di 35 e io da quasi 20 e quindi quello che cerco di fare è mettere a disposizione vostra un po' di queste esperienze cominciamo dai numeri allora una cosa molto nota è questa le imprese familiari sono un tema mondiale perché molti mi chiedono ma che differenza c'è tra l'Italia gli Stati Uniti la Germania la Francia eccetera il modello dell'impresa familiare è super diffuso in tutti i paesi del mondo più o meno nel mondo circa i due terzi delle aziende sono familiari generano la gran parte della ricchezza globale e anche la gran parte dei posti di lavoro quali sono alcune specificità italiane perché molti dicono la piccola dimensione eccetera secondo me no e ci sono anche i dati che lo dimostrano e si collega a uno dei temi che diceva prima Marco questo dato secondo me è interessante perché qui vedete un'analisi che è stata condotta da diciamo la business school di Chicago Booth e da Ifige che è un centro che si occupa di studiare le imprese familiari ed è abbastanza rilevante questo se vedete gli histogrammi blu nella maggior parte dei paesi europei diciamo Regno Unito Francia Germania Spagna e anche Italia il capo azienda è comunque familiare è chiaro che tra il 62% della Francia e l'84% dell'Italia un po' di differenza c'è ma la differenza più importante è quella che vedete nell'istogramma arancione cioè che l'Italia è di gran lunga al paese nella quale sostanzialmente l'intero management è espressione della famiglia non sempre ma nei due terzi dei casi vedete che nel Regno Unito pochissimo il 10% in Francia il 25% Germania il 28% Spagna il 35% quindi una delle caratteristiche italiane è che c'è una forte o meglio molto forte presenza della famiglia nell'operatività della gestione del business secondo tema rilevante è quello diciamo generazionale vedete questi dati nel 2007 diciamo leader aziendali che avevano meno di 50 anni erano il 34% e quali con più di 70 anni il 15 a distanza di 10 anni tra un po' sarà ora del 2027 erano diventati il 21% i leader con meno di 50 anni e circa il 25% quali con più di 70 anni di età e quindi c'è evidentemente anche un tema che è ovvio con l'invecchiamento della popolazione delle aziende ma c'è anche questa sfida il terzo tema che ho messo qui è quello dei giovani tu citavi Marco l'analisi quella della Liuc di Castellanza e meno male che non ho messo anche quei numeri se no tu non li avresti citati questo è un tema secondo me rilevante qualche tempo fa qualche anno fa abbiamo fatto noi un sondaggio su alcuni clienti ex clienti chiedendo ma quali sono le principali fonti di preoccupazione che voi avete riguardo la continuità generazionale e come si vede sul lato sinistro di questa pagina diciamo della fetta blu dell'istogramma la gestione dell'ingresso della presenza della carriera dei giovani è di fatto uno dei primi problemi o fonti di preoccupazione per il 90% degli imprenditori diciamo così intervistati mentre solo per il 10% no se però vediamo sul lato destro si dice ma ci siamo organizzati e ci stiamo organizzando in qualche modo strutturato quindi delle regole dei meccanismi qualcosa di strutturato per gestire questa tematica purtroppo solo nel 7% dei casi vedete lì sempre in blu ci si è organizzato e ci si sta organizzando in modo strutturato mentre nel 93% dei casi no che fa un po' scopa con il tema che dicevi prima facendo il sondaggio per quanti è importante e per quanti si stanno organizzando tema della governance perché è importante la governance io dico almeno per due motivi al di là di tutto quello che ha già raccontato Marco uno perché alla fine è un elemento super importante per diciamo il buon funzionamento dell'azienda tanto che noi da 19 anni abbiamo messo in piedi un osservatorio sulla governance che monitora modalità strumenti eccetera di società quotate italiane internazionali e anche non quotate qui abbiamo fatto questo sondaggio a un panel di investitori che gestiscono 18.400 miliardi di euro quindi piuttosto rilevante dicendo quali sono gli elementi principali che valutate per investire in una società non quotata e al di là dei fondamentali aziendali che ovviamente sono settore numeri eccetera al secondo posto c'è il tema governance quindi qualità del management ruolo modalità di funzionamento del cda e gli elementi di cui sostanzialmente chiacchieriamo questo pomeriggio insieme infine giusto per dire ma serve questa cosa sempre facendo qualche tempo fa un sondaggio e ovviamente escludendo le aziende quelle che noi abbia lavorato negli ultimi 5-6 anni mi sembra 6 anni è scritto lì a destra perché altrimenti sarebbe poco rilevante ci siamo preoccupati di dire ma vediamo come stanno andando queste aziende magari quelle che abbiamo lavorato 35-30-20-25-10-15 anni fa e proviamo a metterla a paragone con l'andamento ovviamente non del PIL che non avrebbe senso ma di un panel di aziende medio aziende italiane l'osservatorio per esempio di ufficio studi di medio banca mappa questi andamenti e si vede che tendenzialmente ora non solo evidentemente perché hanno lavorato su questi temi e men che meno perché l'hanno fatto con noi però è rilevante vedere che occuparsi di governance in modo strutturato aiuta ad avere un'azienda che cresce di più lì vedete che queste che abbiamo mappato sono cresciute in media del 35% rispetto alla media del 18% e hanno anche una migliore editività quindi l'EBIDA di questa azienda è mediamente migliore poi ovvio che uno può dire ma l'EBIDA del 12-71 è fuori scala rispetto alla mia azienda perché la mia ne fa il 20% oppure ne fa il 3% però questo è un medione ovviamente che mette insieme aziende di moda o aziende dell'alimentare che hanno modelli di business completamente diversi quindi fatta questa premessa in cui ho cercato di dire perché è importante la governance alcuni numeri rilevanti vi racconto invece due cose su quello che noi vediamo giorno per giorno mettendo stamattina con una famiglia imprenditoriale di Milano e lui visto che è un'azienda anche in Francia diceva in Francia si dice mettendo le mani nel motore e quindi diciamo mettendo le mani nel motore e qui ho voluto mettere una pagina che ho chiamato perché me l'ha chiesto Marco che se la ricorda da tanti anni fa sono un po' cambiati alcuni temi le cose bucce di banana e quindi dove più spesso si scivola vi racconto un po' qualcosa su questi temi magari con anche un paio di aneddoti primo dove purtroppo i primi due sono i temi di base sui quali se non c'è una chiarezza si rischia poi di avere inciampi anche su quali successivi primo tema non riuscire in concreto e poi parlo del perché in concreto a distinguere le logiche familiari che sono ovviamente le logiche dell'uguaglianza solidarietà affetto eccetera dalle logiche aziendali che sono o dovrebbero essere quelle della meritocrazia perché ho voluto mettere in inciso in concreto e l'ho sottolineato con la voce perché il numero anzi mettiamo la percentuale di imprenditrici e imprenditori che ho conosciuto ho avuto il piacere e l'onore di conoscerne tanti che mi abbia detto nella mia azienda io non ritengo giusto applicare la meritocrazia è 0% mai trovato neanche un imprenditricio un imprenditore che mi abbia detto noi non riteniamo importante la meritocrazia 0% poi però quando si tratta di mia figlia mio figlio mio fratello mia sorella mio cugino mio nipote e così via riuscire a tradurre in concreto questo concetto se si parla di ruoli carriere cariche societarie stipendi autoaziendali eccetera purtroppo è una delle cose più difficili che esista sulla faccia della terra secondo tema confusione tra ruoli della proprietà che evidentemente è l'unico ruolo ereditario e i ruoli operativi all'interno dell'azienda che questo è un altro bel tema perché quante volte a me è capitato di sentirmi dire ma io sono socio perfetto se parliamo di temi di soci o eventualmente se sei anche consigliere di amministrazione di temi da CDA ottimo ma se parliamo di temi operativi io cerco di far valere la mia appartenenza alla famiglia o il mio essere soci in tematiche operative quotidiane si fa una grande confusione uno perché certi temi spettano determinate persone se si vuole essere ordinati e metodologicamente ben impostati e due perché poi per discutere e decidere certe cose occorre un set di competenze che purtroppo non è uguale tra essere socio consigliere oppure operativo in un ambito aziendale tre non rispetto dei ruoli operativi chiaro che sono da sole un tema ma se siamo in due in tre in quattro all'interno dell'azienda rispettare i ruoli operativi quindi non solo il cappello di socio rispetto a operativo ma anche i confini del mio ruolo e delle mie responsabilità è un altro tema che purtroppo tende a non essere sempre applicato da lì si collega al punto successivo mancanza di criteri chiari per gestire bene l'eventuale ingresso e la carriera dei familiari all'interno dell'azienda ma non perché perché poi si può pensare questo bisogna mettere dei paletti degli ostacoli delle difficoltà no perché io penso due cose uno qual è il modo migliore oggi e per il futuro nella mia specifica azienda di avvicinare i giovani e di inserirli affinché sia l'azienda che il ragazzo o la ragazza in questione abbia la miglior probabilità di un ingresso di successo questo è lo scopo vero evidentemente secondo tema che è sempre in quel quadratino numero 4 è tema dei coniugi conviventi e quello è un tema molto delicato almeno da tre punti di vista uno pensiamo che i coniugi possano lavorare in azienda e se sì a quali condizioni oppure no perché ci sono casi statisticamente pochi nei quali coniugi sono un elemento di grande successo certamente qui a Bergamo è noto il caso Brembo per fare un esempio visto che siamo in zona però ci sono casi molti nei quali la presenza di coniugi all'interno dell'azienda ha generato mal di pancia difficoltà discussioni liti primo tema secondo tema ma magari la moglie di Matteo è un esempio qualsiasi farà commercialista l'avvocato il notaio o ha una sua attività e vorrebbe fornire beni o servizi all'azienda di famiglia sì no chi lo decide come quando perché anche quello può essere un tema finché siamo in due o meglio o in uno è fattuto facile quando siamo in due tre quattro fratelli o cugini eccetera può diventare un altro elemento magari complicato terzo tema visto che sono anche implicazioni societarie ma pensiamo che sia cosa buona non è giusta che i coniugi un domani possano ricevere magari per questioni successori ereditarie quote proprietarie della società o perlomeno quote proprietarie decisionalmente rilevanti oppure preferiamo di no per una serie di motivi e come ci organizziamo magari su questo tema poi punto 5 carenza di informazione e comunicazioni qui vi racconto e poi c'è il tema dei dividendi qui vi racconto un aneddoto sull'informazione e comunicazione che mi è venuto in mente in modo molto semplice non perché l'avessi preparato ma perché prima di entrare mi è suonato il telefono e mi ha chiamato una persona che si chiama Camilla Lunelli la famiglia Lunelli è proprietaria di un po' di aziende la più nota delle quali sono le cantine Ferrari a Trento lo spumante Ferrari siccome io feci per loro 12-13 anni fa un accordo un patto familiare che tra l'altro è stato aggiornato è uscito un articolo qualche settimana fa pochi mesi fa per una serie di motivi mi viene in mente questo per il saluto dell'informazione perché mi ricordo come fosse oggi che ero a Trento e spesso quando noi facciamo questo tipo di incontri all'inizio diciamo di radunare tutta la famiglia per condividere con la famiglia un po' le cose che adesso sto raccontando errori bucce di banana linee guida esperienze di altre famiglie e c'erano lì i cinque fratelli Lunelli con i rispettivi figli e tenete presente una cosa adesso non ve la faccio lunga ma i cinque fratelli Lunelli il più grande che si chiamava Giorgio che ha mancato ha fatto il manager tutta la vita la General Electric aveva più del 20% del capitale ma non ha mai lavorato in azienda Franco si occupava degli immobili di famiglia e di un'enoteca che loro avevano Carla ha fatto la mamma Mauro ha fatto l'enologo Gino Lunelli ha fatto l'imprenditore di riferimento per lo sviluppo imprenditoriale dell'azienda considerate che quando loro sono subentrati al loro padre che va comprato da Giulio Ferrari l'azienda si chiama Ferrari perché il fondatore era Giulio Ferrari che non aveva figli ha venduto l'azienda un enologo che aveva diciamo una bottega di vino anche un'enoteca a Trento e parliamo di la venduta 70 anni fa e quando loro sono subentrati mi sembra che facessero 10.000 bottiglie oggi solo le cantine Ferrari fanno 7 milioni 7 milioni e mezzo di bottiglie mi sembra a memoria e quindi uno faceva il manager della General Electric uno l'enologo uno gestiva gli immobili uno la mamma uno ha fatto il motore imprenditoriale arrivo con la famiglia riunita a parlare dell'importanza dell'informazione e comunicazione e Gino Lunelli persona anche molto simpatica mi dice vede Pietoletti parole che mi ricorderò tutta la vita io ho più o meno 50 anni che lavoro perché aveva 68-70 anni aveva iniziato a lavorare finita le scuole superiori tra l'altro non è che abbia lavorato 8 ore al giorno da lunedì al venerdì ma questo mio commento personale come tutti le imprenditrici o gli imprenditori di successo 12-13 ore al giorno quasi tutti sabato spesso anche la domenica così facendo viste le scelte di vita che hanno fatto i miei fratelli e mia sorella ho sicuramente fortemente contribuito allo sviluppo di quello che lui chiama la ditta tuttora e poi loro hanno comprato la flacua sorgiva la prosecco bisor una grappa una serie di altre attività immobiliari anche e lei pretende che io in tutti questi anni avesse anche trovato il tempo per informare gli altri membri della famiglia su come andavano le cose su nuovi progetti ecco questo è super importante perché informare bene i familiari anche le giovani generazioni quando sono giovani coinvolgere portare a bordo tutti rispetto a progetti attività è un carburante super importante e anche un lubrificante straordinario per continuare ad andare d'accordo essendo che il secondo lubrificante è quello che è scritto nell'ultima parte di questo quinto quadratino che sono poi i dividendi se l'azienda va bene dividere un po' di utili non troppi ma un po' aiuta anche questo nel tempo ad andare d'accordo poi l'ultimo penultimo punto è non rispetto di alcune regole di comportamento su cui deconto anche qui un aneddoto e vabbè l'ultimo invece è difficoltà con i compensi e i benefici dei familiari che è un tema evidentemente super scivoloso l'aneddoto sull'ultimo penultimo punto è questo qua io ricordo con grandissimo affetto tra i tanti imprenditori che ho conosciuto Alberto Bauli che ovviamente sapete tutti cosa fa l'azienda quando fece un lavoro per loro tanto anche questo è noto sono usciti articoli su giornale lui alla riunione finale quando firmarono quest'accordo familiare radunati i suoi figli e i suoi nipoti loro erano tre fratelli cioè il fondatore è Ruggero Bauli ha avuto tre figli di questi tre figli oggi ce ne è supertite solo uno Alberto all'epoca era ancora presidente dell'azienda della Bauli e quindi c'era lui i suoi figli i figli dei suoi fratelli e uno dei fratelli e lui disse questa cosa ma abbiamo scritto delle regole importanti per il futuro secondo me tra l'altro è uno degli investimenti essendo per il futuro di lungo termine più importanti che potevamo fare per il futuro dell'azienda però ragazzi che poi ragazzi per modo di dire perché quarantenni o non è che fossero sedicenni ma c'erano anche più piccoli però insomma ragazzi tenete presente una cosa che è sempre valsa nella nostra famiglia che è un detto che era del papà di mia dei miei fratelli nella nostra azienda la parola cioè quello che si dice suona mentre l'esempio tuona e questo è super importante quando parliamo di comportamenti che i membri della famiglia chi è dentro l'azienda chi magari è fuori chi è in azienda solo in un ruolo operativo e chi invece ha ruoli apicali diano tutti comportamenti esemplari è fondamentale per l'attrattività oggi la chiameresti tu che sei saggio edotto la chiameresti la retention diciamo l'attrattività e la fidelizzazione mantenere le persone perché essere in prima linea corretti darci metterci il cuore comportarsi in un modo efficace in tante cose nello stile nelle riunioni nella puntualità evidentemente è un aspetto super importante anche rispetto ai collaboratori mi avvio alla conclusione se purtroppo uno o più di queste bucce di banana non è gestita bene si rischia di diventare protagonisti di casi noti oggi o ieri c'era sulla Repubblica un articolo che parlava della famiglia Vitaloni questo è un po' più vecchiotto perché è di diciamo qualche mese fa famiglia Vitaloni è la famiglia proprietaria del gruppo San Carlo che stanno litigando da anni per questioni generazionali saprete tutti della questione della Melegatti che purtroppo ha dovuto chiudere poi è stata rilevata per problemi generazionali nelle famiglie piuttosto che la famiglia Ambrosoli e potevo mettere altri 50 mi sono limitato a 3 quarto terzo punto sarò velocissimo è questo quali sono alcuni aspetti che dal nostro punto di vista vanno un po' messi sotto la lente di ingrandimento primo nel nostro caso specifico come cercare di creare un buon equilibrio durevole nel tempo tra le logiche della famiglia che devono rimanere solidarietà affetto anche uguaglianza in famiglia ovviamente non dentro un'azienda e le logiche dell'azienda perché uno dei veri temi è che spesso non è facile applicare logiche aziendali in un'azienda di famiglia e questo è il vero tema cioè quello che è diciamo facile teoricamente aziendalmente non lo è poi a livello di logiche familiari secondo tema qual è il ruolo della famiglia e come favorire il rispetto dei ruoli terzo come favorire nel tempo governabilità che poi vuol dire riuscire a decidere e a scaricare a terra in modo efficace le decisioni che vengono prese e anche l'omogeneità proprietaria quarto come valorizzare al meglio le vocazioni dei giovani che è un tema che ha messo super a cuore e curare bene i loro percorsi quinto come favorire il fatto che ci sia e ci sia anche in futuro professionalità vera nei ruoli di comando poi attrattività aziendale rispetto ai migliori talenti della famiglia agli esterni trasparenza che vuol dire informazione come dicevo prima nel caso Lunelli e non solo e flessibilità ovviamente potrei raccontare mille aneddoti su ciascuno di questi punti ma non vi intrattengo e vado alla conclusione io di solito raccomando agli imprenditori e imprenditrici di ragionare su alcuni ambiti e cui li ho indicati primo regole per stare insieme questo l'ho messo al quadrato perché dirò un accenno siccome poi immagino che nel dibattito qualcosa da parte dell'architetto Maiocchio del dottor Geremia verrà fuori secondo tema ruoli responsabilità deleghe organizzazione quindi chi fa che cosa a livello pratico terzo preoccuparsi di preparare tutti per fare il socio o l'eventuale membro del consiglio di amministrazione in un modo efficace o perlomeno consapevole perché se io faccio altro nella vita e ho il 10 15% o anche se lavoro in azienda ma mi occupo di produzione non è detto e uso un elegante ufemismo che banalmente sappia cosa fa l'assemblea dei soci cosa fa il consiglio di amministrazione piuttosto che sappia capire i numeri dell'azienda o sappia valutare se un investimento è buono o non è buono o è compatibile o non compatibile con la situazione finanziaria della mia società evidentemente e ultimo affiancamento ai giovani per valorizzare le vocazioni e far emergere competenze efficaci per i ruoli che eventualmente vengono ricoperti in azienda per quanto riguarda i patti familiari quindi regole del gioco io penso che voglia dire questo definire come stare insieme nel presente e nel futuro ma perché mi è piaciuta tra le varie cose che hai detto anche una slide parlavi di valori cioè perché vogliamo stare insieme e questo è fondamentale perché come scritto nelle ultime due righe si ritiene che ci siano dei valori umani familiari e poi certamente anche economici che debbono essere salvaguardati anche in una logica sempre una slide c'era di responsabilità sociale perché poi onestamente un conto è avere un'azienda a New York e un conto è avere un'azienda territoriale dove sappiamo bene che se l'azienda funziona si crea anche valore per il territorio se non funziona un pochino meno evidentemente poi qui ho preso da un caso concreto un po' di temi che spesso vengono trattati dalle famiglie valori regole per il rispetto dei ruoli regole per la presenza dei familiari in azienda modalità per tutelare la governabilità dell'azienda anche quando aumenta il numero dei familiari come comporre come far funzionare il o i consigli di amministrazione come gestire i compensi i dividendi della famiglia e così via infine penso sia l'ultima pagina l'elemento più delicato è questo qua perché molte delle cose che ho raccontato penso sia passato una ventina di minuti più o meno da quando è iniziato sono facili io oso dire sono banali alla fine sapere che in azienda bisognerà essere meritocratici applicare regole aziendali in famiglia un'altra cosa la proprietà un conto la gestione un'altra chiarezza nei ruoli organigramma preciso e così via è banale il tema vero è che poi riuscire a tradurre nel mio caso specifico questi concetti alcuni dei quali sono anche banali in pratica non è facile e per farlo nella mia esperienza ho visto che servono due cose almeno uno un percorso di vera condivisione mi permetto di dire di assimilare un'azione profonda da parte di tutti i familiari di queste cose quindi un percorso che arrivi a condividere queste cose in un modo veramente efficace e poi anche un post che aiuti ad applicarle in concreto perché dopo un conto è scrivere certe cose ma quando si tratta magari due anni o tre anni dopo che hai scritto delle cose di dire è giusto che Marco o Matteo vengano promossi in un certo ruolo quanto è giusto pagare Marco Matteo piuttosto che Maria o Giovanna si rischia pur avendo condiviso dei concetti sacrosanti che alla prova dei fatti questo genere o possa generare dei mal di pancia e quindi avere meccanismi per riuscire a gestire bene queste cose qui quando si presentano come nel gioco del biliardo può essere la sponda che aumenta le opzioni di gioco evidentemente aiuta e può essere anche un grande vantaggio io ho finito grazie ripasso la palla Marco e poi se avete nel dibattito domande o considerazioni mi fa piacere sono qua a posto grazie Luca perché io ammiro sempre la tua professionalità e anche efficacia hai detto 20 minuti secondo me era 20 minuti 0 0 0 cioè perfetto sembra quasi il tuo lavoro anche anche beh Luca ha elencato una somma di spunti che insomma meritano ovviamente tanto approfondimento questa sera un pezzo di approfondimento lo facciamo con Angelo Maiocchi e Pietro Germia che chiedo di scomodarvi e gentilmente raggiungerci sulla sulla poltrona grazie grazie perché e chiedo un attimo alla regione nel frattempo che si accomodano ancora la slide del QR code di Slido in modo tale che anche ascoltando Luca a me stesso sono uscite ancora alcune domande da 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 porre comunque perché non è mai finito per definizione un viaggio anche la conti in pagina nazionale quindi sentitevi liberi nel 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 scrivermi nel scriverci qualche spunto qualche domanda perché sono sicuro che ne avete poi capisco che sono temi anche un po' critici quindi non è magari così facile esporli un po' così in pubblico ma appunto non dovete alzarvi e col microfono esporre la domanda ma questo strumento aiuta anche un po' a mantenere questa piccola insomma riservatezza che a volte può favorire il dialogo io comunque qualche domanda ce l'ho in tasca da porre a Pietro e Angelo perché è troppo prezioso che siano qui con noi oggi perché comunque ancora di più Pietro viene da con qualche qualche ora di strada un pochino più vicino a Angelo però comunque hanno deciso di venire qui con noi e per questo ancora li ringrazio perché insomma sappiamo che adesso ce lo raccontano che aziende hanno in gestione a presidio a custodia se vogliamo tenere un po' il verbo che abbiamo utilizzato prima custodire e che adesso ci presentano quindi facciamo questo viaggio insieme a loro perché se per favore possiamo iniziare da Nesse e Maiocchi così possiamo gestire che Angelo ci possa raccontare riusciamo a cambiarlo o in modo spintaneo iniziamo da Pietro arriva arriva grazie Angelo come ti senti innanzitutto qui a Bergamo benissimo anzi vi ringrazio di questo invito di Confindustria a Bergamo e a Luca col quale abbiamo fatto un percorso che poi un po' cercherò anche di illustrare per capire quello che è stata la nostra la nostra esperienza e condividerla con voi perché è un argomento particolarmente sentito e importante per le aziende del nostro del nostro mondo editoriale abbiamo visto prima anche sia il sondaggio in diretta che la conferenza di Luca comunque più o meno la statistica forse sono un pochino più bravi mediamente qui a Bergamo era magari il 7% non ricordo qui più o meno a naso era quasi un po' il doppio quasi un 15% dei presenti che avevano intrapreso dei piani diciamo di continuità generazionale fatto 100 invece ritenesse tutti ritenevamo che fosse importante è incredibile questa cosa qua è importante strategica ma ancora troppo pochi la fanno ma perché e adesso magari ci rispondi però facci capire chi sei chi è la tua azienda e come è arrivata ad oggi in questo percorso che hai fatto anche insieme a Luca si faccio una breve presentazione per inquadrare il profilo dell'azienda e per far capire anche un po' le caratteristiche nostre perché evidentemente il fattore dimensionale ha un ruolo importante in queste scelte dicevo rapida rapida storia Nessi Maiocchi è un'impresa di costruzioni diventata general contractor ma sempre questo è il settore è fondata nel nonno e da un suo compagno di scuola nel 1926 per cui ci avviciniamo quasi ai ai cent'anni gestita dal nonno e da questo suo amico fino al 55 poi venne a mancare a metà degli anni 50 questo suo socio il gruppo immobiliare il gruppo proprietario Nessi ha due figlie decisero di non continuare in questa attività per cui di fatto da metà degli anni 50 Nessi Maiocchi è solo Maiocchi però per una volontà del nonno di amicizia e di rispetto insieme all'amico e socio fondatore dell'azienda diede questo input che il nome non doveva essere toccato e questo è rimasto negli anni poi una sua volontà che è stata sempre rispettata entrarono in quegli anni il mio papà e mio zio fino al fino al 92 ci fu anche lo zio poi venne a mancare per cui dal 92 l'azienda fu portata avanti è stata portata avanti diciamo solo dalla parte della famiglia da quale io faccio parte di Gian Piero che è mio papà perché i figli di Mario erano ancora molto giovani e non entrarono in azienda pur rimanendo però azionisti diciamo al 50% della famiglia io rappresento la terza generazione poi alla fine vedremo un attimo un po' l'albero per capire un po' com'è è strutturata siamo dicevo un'impresa di costruzioni che opera nel settore dell'edilizia siamo una media azienda una classica media azienda italiana il fatturato varia nel nostro settore abbastanza con dei picchi per via delle commesse diciamo però gli ultimi anni dai 60 quest'anno saremo sopra gli 85 milioni di fatturato questo per dare un ordine di grandezza siamo un'ottantina di collaboratori anche qui in crescita perché lo sviluppo sta portando a queste operiamo prevalentemente nel settore residenziale recettivo alberghiero molto importante che sta diventando sempre più importante anche per il settore dell'italiano del made in italy terziario direzionale industriale sia con un lavoro solo fortunatamente del bonus 110 non voglio aprire un capitolo abbastanza doloroso per questo nostro paese in parte sul nuovo in parte sulle ristrutturazioni i settori dove operiamo sono come dicevo quello alberghiero particolarmente importante abbiamo fatto in questi anni diversi alberghi alcuni abbastanza anche noti come per il gruppo Hilton Sheraton sul lago di Como alcuni alberghi di prestigio quasi tutti 5 stelle in zone di montagna Courmayeur a Milano Duca ad esempio in Algeria stiamo facendo un albergo con non poche difficoltà che è un paese non facile è un'esperienza però di internazionalizzazione dell'azienda e sul residenziale abbiamo e stiamo facendo cose abbastanza importanti noi siamo di Como per cui l'area Arcomasco sul lago c'è stato uno sviluppo molto importante in questi anni soprattutto su ville di prestigio e su residenze di pregio e nell'area milanese anche qui cito vedete una foto è quella della torre Milano sono 24 piani zona Maggiolina Milano che abbiamo completato alcuni mesi fa e poi direzionale tipo cito a Milano Fiori abbiamo realizzato le ultime due palazzi dove si è insediato Accenture e Benpe per circa 40.000 metri di uffici si vedono dall'autostrada passando e per precedenza Covivio abbiamo realizzato la prima fase di sviluppo della zona di simbiosis vicino al scallo di Porta Romana che è una zona di grande fermento e di sviluppo del mercato immobiliare di Milano facendo la sede dove attualmente adesso c'è Fastweb su un progetto di Antonio Citterio dicevo attualmente stiamo abbiamo questo è un esempio che mi piace ricordare che è l'hotel Villa Passalacqua sul lago di Como a Moltrasio che abbiamo ristrutturato completamente come general contractor ed è ottimato un anno fa e nonostante sia aperto questa è la seconda stagione da solo due anni proprio alcune settimane fa ha vinto il titolo del primo albergo al mondo l'Italia ci fa piacere dire che riesce a primeggiare addirittura hanno sconfitto concorrenza di hotel blasonati nel mondo asiatico Caraibi America e tutto il resto d'Europa fa piacere che noi l'abbiamo contribuito alla costruzione ma soprattutto come italiani che riusciamo a primeggiare anche in questi settori ed è motivo certamente di orgoglio è un boutique hotel di 24 camere molto esclusivo ma questo è quello che oggi la clientela sta chiedendo e che il nostro paese sta godendo di questo particolare momento favorevole che ci auguriamo tutti possa continuare a lungo insieme ad altri settori questo altro è una villa importante che abbiamo ristrutturato sul lago di Como una delle più belle chi ha visto il film di House of Gucci dove hanno girato anche delle scene del film sul lago di Como è una delle ville più prestigiose ci sono sul lago che è prevalentemente usata per eventi privati la prossima puntata di Cotter possiamo accedere a una di queste vincolata dalla soprintendenza per cui facciamo sia questi prodotti poi passiamo dove c'è una cura del dettaglio a questi dove c'è un'altra cura esasperata del dettaglio ma di altro tipo che sono questi lavori che dicevo a Milano Fiori di Accenture di Benpey che abbiamo terminato poco fa questo è un altro edificio sempre su Milano di uffici che in fase di ultimazione alla fine dell'anno andremo a concluderlo e consegnarlo attualmente abbiamo in costruzione o in ristrutturazione lavoro altrettanto prestigioso qualcuno l'avrà riconosciuto dalla foto è l'hotel splendido di Portofino del gruppo Belmond LVMash dove c'è un programma di ristrutturazione piuttosto articolato e anche abbastanza complesso come logistica come potete ben immaginare dove nei prossimi quattro anni abbiamo terminato l'anno scorso la prima fase ieri abbiamo iniziato la seconda viene fatto ristrutturato per lotti in quattro stagioni partendo dal primo di ottobre riconsegnandolo la fine di maggio per farlo riaprire ai loro clienti e questo è un lavoro anche questo particolarmente importante e prestigioso che stiamo facendo questa è la sede invece di Moncler sempre per Covivio a Milano zona sempre simbiosis in associazione con Colombo Costruzioni e sono circa 35 mila metri di di efficio tanto per dare un ordine di grandezza un appalto di oltre 100 milioni di euro questa è una delle ultime acquisizioni che abbiamo fatto in zona Bicocca Milano una ristrutturazione di questo complesso di Vittorio Gregotti per sé conto di un fondo immobiliare che dovrà essere completamente ristrutturato e sopralzato di due piani in questa zona appunto dicevo di Milano e poi c'è questo altro albergo importante sul Lago di Como che diventerà un altro 5 stelle che sarà gestito dal gruppo Marriott col brand edition per conto sempre di fondi immobiliari perché devo dire che in questi ultimi anni diciamo i nostri committenti spesso sono stati questi questi gruppi che comportano ovviamente un impegno e un cambiamento di mentalità e di approccio col cliente rispetto agli storici diciamo immobiliaristi di una volta perché noi siamo un'impresa che lavora conto terzi raramente fa qualche anche operazione di sviluppo immobiliare ma siamo proprio un general contractor puro la struttura societaria al di sopra di Nessi Maiocchi che è la società operativa c'è Fingima che è diciamo un po' pomposamente la holding dove ci sono le quote azionarie del gruppo e familiari al di sotto c'è Nessi Maiocchi e altre società per lo più sono società o di consortili per l'operatività dell'azienda insieme ad altri ad altre aziende oppure società veicolo per alcuni sviluppi immobiliari o meno l'albero genealogico della famiglia ecco come Giampiero avete mio papà ancora oggi in azienda a 90 anni viene ancora tutti i giorni non è più non ha più un ruolo ovviamente operativo però passa sempre ancora tutti i giorni perché è nato è cresciuto diciamo non ha ruoli operativi è il presidente d'onore dell'azienda del gruppo l'anno scorso ha fatto mi sembra 67 anni in azienda lui ha confuso quando gli dicevano l'età pensionabile bisogna andare all'età pensionabile a 67 anni lui ha confuso i 67 anni di lavoro con l'età anagrafica però è un po' la forza anche del mondo imprenditoriale nostro che c'è questo grande attaccamento alle creature che uno plasma nel corso degli anni noi siamo tre fratelli io e mia due sorelle loro non hanno ruoli diciamo operativi in azienda e siamo la terza generazione la quarta generazione ognuno di noi ha dei figli che sono da nostra parte diciamo ramo Giampiero siamo altri otto figli poi ci sono già dei altri otto diciamo pronipoti nipoti nel mio caso mio papà pronipoti dall'altra parte del ramo invece della famiglia di Mario ci sono anche lì altri tre fuggini con otto nipoti come capite in terza generazione siamo in sei in quarta generazione iniziamo a essere in sedici poi ce ne sono già otto in quinta ma fermiamoci a questi gli altri sono piccoli questo evidentemente ha creato fino a un certo punto nessun problema perché diciamo c'era il capo stipite della seconda generazione mio papà figli giovani dall'altra parte ovviamente andando avanti negli anni una parte era operativa l'altra meno come diceva Luca prima si creano dei rapporti che per certi aspetti sono molto positivi per altri invece iniziano a diventare quando si entroppi un pochino più difficili da gestire soprattutto se c'è uno squilibrio tra chi ha funzioni apicali operativi e chi invece è azionista ed è questo poi dopo magari ne discutiamo è quello che ci ha spinto a andare in questa direzione di arrivare c'è stato un momento in cui è uscita questa scintilla per dire lo devo fare tu di più le tue sorelle c'è stato un momento in cui comunque allora io ero da anni che spingevo per questa non è facile è un passo molto difficile lo dico molto delicato l'hanno anche scritto poi molto spesso l'imprenditore preso dal lavoro ordinario dalle preoccupazioni di tutti i giorni per cui a volte non ho il tempo mette da parte questi che all'apparenza sembrano magari dei problemi o delle secondari secondari in realtà diventa molto importante perché poi dare anche una serenità all'azienda ai collaboratori ai nostri committenti è molto importante che ci sia questa chiarezza e ci sia delle regole hai riuscito a convincere anche le sorelle a fare questo passaggio qui c'è il momento in cui hai chiamato Luca o comunque era già un traguardo di un lavoro fatto prima no è stato un lavoro che si è fatto ai fianchi con con pazienza per convincere tutti ad arrivare ad affrontare questo argomento per cui il primo passo è stato quello di convincerli che bisognava andare in questa direzione come e con che risultato è stato anche quello un aspetto molto delicato perché secondo me bisogna fare un passo alla volta e non dare meno nel nostro caso ma penso che possa valere un po' per tutti l'idea di voler imporre qualcosa ma deve essere una scelta che deve nascere un po' da tutti e deve essere il più condivisa possibile poi un po' di forzature ogni tanto devono essere fatti un po' di stimoli devono essere dati però bisogna portare una condivisione perché se viene imposta o forzata secondo me diventa ancora più difficile questo percorso però è molto importante soprattutto in aziende familiari come sono come è la mia e come è la maggior parte come abbiamo visto nelle statistiche prima quando inizia allargarsi la base azionaria darsi delle regole altrimenti il rischio come spesso succede che poi le aziende non sopravvivono ai passaggi generazionali perché iniziano problemi allora bisogna per tempo muoversi su questo devo dire che noi ci siamo mossi siamo a a un buon punto del percorso non siamo ancora arrivati in fondo abbiamo firmato un patto di famiglia adesso poi magari non voglio togliere al dibattito poi magari spiegherà un po' di cose comunque è un po' la nostra realtà che è una tipica media impresa italiana molto interessante tra l'altro con quella carrellata di bei posti mi corre d'obbligo favorirci qualche ingresso da qualche parte nella prossima tappa nella prossima tappa del nostro progetto di governance insomma a te l'ha scelto uno di quelli grazie davvero alcuni di questi mi dicono se vuole venire le faccio un prezzo di favore ma anche col prezzo di favore non è abbastanza capiente vai Pietro prendiamo l'elicottero e voliamo in Veneto e vediamo un po' cosa Pietro ci dice della sua realtà un gruppo un gruppo industriale in ambito chimica vernici e che ha applicato anche qui un gran bel passaggio generazionale anche relativamente recente e che Pietro con piacere ci condivido perché chi meglio di te racconti della tua azienda vai Pietro grazie Marco buonasera a tutti anche da parte mia anche chi è collegato online io rappresento l'imprenditore quello con meno esperienza e quindi diciamo faccio anch'io la battuta di Ciampi che non vedo l'ora di sentire le domande per anche imparare e scambiare i punti di vista con voi tutti siamo anche noi un'azienda del territorio non questo ma in provincia di Venezia e siamo come ha detto l'architetto anche noi un'azienda tipica italiana che ha mosso i primi passi diversi anni fa con piccoli investimenti da parte del fondatore passo dopo passo l'azienda è cresciuta con le proprie forze quindi è una storia tipica di un'azienda familiare diciamo negli anni del boom l'azienda è stata fondata in realtà nel 37 1937 da mio bisnonno e adesso insieme ai miei due sorelle Marta e Maria Luce rappresentiamo la quarta generazione di imprenditori che è dentro l'azienda e come dicevi noi produciamo e commercializziamo pitture e vernici per l'idelizia questo è il nostro core business siamo un'azienda chimica e la sede è a Marcon e ma il tasto eccolo qui la sede è a Marcon ma oggi la non è questa Marcon no no questo magari diciamo non passavo da quelle parti sì sì non è e non è neanche il lago di Como che è probabilmente ancora più bello questo è Singapore per rappresentare un po' il respiro internazionale dell'azienda tra l'altro questo hotel si chiama Marina by Sands di Singapore che è un po' l'hotel iconico come si dice della città e l'abbiamo pitturato noi questo diciamo è una delle referenze non ne ho citato altre come l'architetto però è una delle nostre delle referenze noi come particolarità è quella che vendiamo il made in Italy sembra strano no la pittura la latta di vernice in realtà dentro questa latta di vernice si rappresentano tantissime emozioni c'è il miglior saper fare italiano ovvero ci sono dei prodotti che esportiamo in tutto il mondo in cento paesi che rappresentano il saper fare italiano sulle pareti quindi ci sono delle texture dei materiali che i maestri gli ambassador questi grandi decoratori riescono a applicare e si possono realizzare nella propria stanza nell'hotel piuttosto che in un ristorante una parete unica cioè si riesce veramente a rendere quella parete o speriamo anche tutte e quattro le pareti uniche quindi l'effetto travertino marmorino l'effetto di ossidazione il cemento di lavato quindi sia moderni che classiche e questo è un filone che l'azienda ha molto cavalcato anche attraverso acquisizioni e attraverso la ricerca e sviluppo che è interna e un po' rappresenta quel made in Italy molto legato al fashion all'arredo tutto il salone mobile fuori salone è dentro questa sfera dove il gruppo San Marco sta molto crescendo quindi in realtà sia un'azienda chimica un'azienda che in Italia ha un posizionamento molto sul professionale però sull'estero ci stiamo dando questa nicchia di prodotti ad alto valore aggiunto abbiamo in totale sette siti produttivi quattro in Italia e tre all'estero questi siti produttivi sono specializzati per produzione e sette marchi questi marchi hanno un proprio posizionamento adesso non entro nel dettaglio non cerco di spiegarvi come come diciamo come si fa la pittura però il concetto è che l'azienda è cresciuta anche tramite acquisizioni di aziende ben diciamo posizionate nel mercato sia in italiano che europeo e oggi noi cerchiamo di arrivare al cliente finale in tutti i canali distributivi possibili e con tutte le armi possibili scusa Pietro perché questo è un tema molto caro noi a livello di M&A anche di filiera avete fatto acquisizione più tra concorrenti quindi anche quota di mercato o più complementari come servizio di prodotto oppure più di filiera avete preso il fornitore tutte avete fatto più sì abbiamo Eurocolor era un fornitore quindi siamo andati abbiamo fatto un'integrazione a monte e Novacolor era un concorrente diretto e piuttosto che Carlin è stata un'acquisizione è un'azienda norvegese è il numero 3 in Norvegia è stato un modo per poter entrare nella Scandinavia e poi anche vendere gli altri altri marchi quindi diciamo queste sono tutte fatte da mio padre quindi io diciamo racconto quello che è stato fatto in realtà l'ultima acquisizione è stata nel 2016 e io sono in azienda da 11 anni ma non ho seguito queste operazioni adesso abbiamo un piano ben preciso su come fare le acquisizioni perché bisogna darsi delle priorità delle regole degli obiettivi e sicuramente queste cose che tu dici sono assolutamente molto valide e come dicevo diciamo l'ambito dove noi lavoriamo è appunto questo dell'idelizia in Italia e l'estero su varie categorie ecco io volevo con voi oltre a a citare anche da parte nostra un po' l'arbero il nostro assetto societario familiare volevo formarmi con voi su un aspetto che negli ultimi soprattutto quattro anni del covid per noi come San Marco gruppo è stato veramente decisivo che è quello che anche te citavi la tematica ISC che adesso se ne parla praticamente dalla mattina alla sera però ecco volevo portare degli esempi concreti dove noi abbiamo proprio visto un valore aggiunto abbiamo visto una creazione di valore con delle scelte fatte in ambito di sostenibilità che non è fuffa ma è veramente qualcosa di utile per le aziende e ho portato tre esempi innanzitutto dal 2018 ridiciamo il bilancio di sostenibilità che è proprio un bilancio annuale dove cerchiamo di mostrare le azioni fatte e i risultati e questo è un documento che deve essere in linea col piano di sostenibilità quindi facciamo dei piano di sostenibilità trennali mettendo gli obiettivi e ogni anno li verifichiamo con questo bilancio di sostenibilità che è anche revisionato da Deloitte e è un documento estremamente utile per gli stakeholder quando si va dagli istituti di credito piuttosto che i grandi fornitori o clienti che citavi anche prima queste cose ce le chiedono noi siamo entrati in un canale distributivo in Leroy Merlin quando Leroy Merlin ha fatto tipo una visita ispettiva a nostra spese di tre giorni in due siti produttivi loro hanno fatto delle verifiche su questi parametri ci hanno messo dei voti per fortuna sono andati bene però sono stati estremamente utili quando fai delle gare di appalto anche nel pubblico non lavoriamo soprattutto privato ma qualcosa abbiamo fatto questi criteri quindi tre elementi il primo sulla sostenibilità noi calcoliamo il life cycle assessment quindi il ciclo di vita del prodotto da un punto di vista di emissioni di CO2 dalle materie prima da trasporto produzione e al fine lavoro per ogni prodotto e con questo con questo calcolo ci permette di esporre al consumatore finale quindi attraverso la scheda ambientale pubblicata online di ogni singolo prodotto il pedigree ambientale quindi ogni prodotto oltre a scheda tecnica scheda di sicurezza ha questa environmental sheet che mostra il pedigree del prodotto e questo è una grande affermazione di trasparenza verso il consumatore finale ma permette anche di avere una base di partenza per poi migliorarlo questo è un esempio che abbiamo fatto il mass balance approach quindi è stato un progetto insieme al nostro fornitore BASF dove abbiamo sostituito materie prime di origine fossile quindi inquinanti con materie prime biomasse come scarti dell'agricoltura e questo ha permesso di migliorare questo pedigree ambientale e mostrare lo consumatore finale questo quindi è stato un aspetto sicuramente positivo da un punto di vista ambientale ma anche positivo da un punto di vista di certificazioni e queste certificazioni torno alla creazione di valore negli ultimi 4 anni ci hanno permesso molto ad entrare in mercati nuovi ad esempio la Cina se non hai certificazioni il nostro prodotto non riesci a commercializzare ma anche adesso le PNRR diverse di queste certificazioni l'architetto me lo conferma per fortuna oggi se non ce li hai non riesci non riesci a lavorare non solo PNRR ma anche cantieri dove diciamo c'è un c'è un bisogno di un efficientamento energetico migliore quindi questo aspetto di attenzione sulla sostenibilità in questo caso ambientale ha anche un tornaconto non solo di etica e di ritorno alla comunità e diciamo al prossimo ma anche economico la seconda la seconda lettera la parte social su questo diciamo è un po' il cavallo di battaglio dell'azienda probabilmente molti di voi non ci conoscono perché siamo siamo un'azienda diciamo abbastanza B2B magari qualcuno che piace fare fai da te ha visto la latta con il leone rosso ecco questo è uno dei nostri cavalli di battaglia noi nel 2013 abbiamo lanciato questo ancora non è merito mio io porto un po' le diciamo vi racconto la storia è grazie mia sorella maia Luce abbiamo lanciato una politica di welfare è quella che vediamo no no quella è la mamma è una è Giorgia è la nostra collega che ha avuto un figlio abbiamo messo Giorgia col figlio perché una delle ultime iniziative lanciate a gennaio di quest'anno l'iniziativa è sostenibile quindi non è una tantum è stata quella legata al welfare del bonus ovvero no grande problema della natalità grande aumento dei costi legati all'inflazione i dipendenti giustamente hanno difficoltà noi abbiamo lanciato questa iniziativa che per ogni figlio dei nostri dipendenti noi diamo al dipendente sia maschio che femmina 6.000 euro 3.000 euro la nascita 2.000 euro al primo anno e 1.000 euro al terzo non vi dico il boom di nascite che c'è stato a distanza di 6 mesi da quando veramente abbiamo non è una cosa che vogliamo continuare perché questo è modo la famosa retention il famoso legame che crei col dipendente e poi per avere 1.000 euro devi stare 3 anni però al di là di questo la persona è molto si sente molto parte della squadra San Marco questo è un esempio estremamente apprezzato come ha molto apprezzato il raddoppio dei giorni di paternità per tutti i dipendenti quindi come sapete la legislazione ci permette di avere solo 10 giorni che siamo nel falino di coda in Europa quando il papà ha un figlio noi ne aggiungiamo 10 finanziati dall'azienda per permettere il papà di aiutare la compagna o la moglie a stare a casa non solo abbiamo integrato il 20% della retribuzione della maternità facoltativa per tutto il periodo così la mamma può per tutto il periodo avere il 50% dello stipendio più altre iniziative come abbiamo abbiamo inserito un psicologo per aiutare le neomamme che tornano al lavoro dopo il parto abbiamo lanciato un'iniziativa che sto usando io di una nutrizionista sto cercando di perdere peso di una nutrizionista per fare dei percorsi alimentari con la mensa aziendale per i nostri operai magazzinieri e dal primo luglio di quest'anno abbiamo lanciato una diciamo lanciato abbiamo un po' imposto non tutte le cose nascono da basse alcune dall'alto abbiamo imposto che tutte le nostre fabbriche sono smoking free quindi bisogna fumare fuori per i metri aziendali questo c'è stato un po' più di brusio da parte dei nostri dipendenti però qui abbiamo proposto un consulente per fare un percorso per smettere di fumare questo non tanto usato però l'abbiamo fatto poi per finire sulla parte social abbiamo lanciato su tutte le fabbriche l'e-bike per agevolare il percorso non siamo a Milano siamo nel Veneziano nelle Marche in Friuli e in Emilia Romagna come fabbriche in Italia comunque l'e-bike per agevolare il percorso azienda e casa azienda come anche il carpooling che è un'app che i nostri dipendenti ad esempio diversi dal Padovano sul Veneziano usano per risparmiare la benzina e noi diamo dei punti aggiuntivi se lo utilizzano per i wealth andando veloce nel primo gennaio del 21 abbiamo fatto un accordo di gruppo con i sindacati e su questo accordo di gruppo permettiamo a tutti i dipendenti di utilizzare due appartamenti aziendali a Venezia e nelle Marche in modo gratuito per le ferie quindi il dipendente può fare una settimana di far ferie con questi appartamenti aziendali e vengono molto molto utilizzati oppure l'altra novità è quella che per il premio di produttività sono 4000 euro per dipendente questo premio se si raggiungono raggiungono degli obiettivi aziendali questo premio ha una maggiorazione del 5% se il dipendente fa 40 ore di volontariato su un'azienda no profit quindi cerchiamo di stimolare fare noi ci siamo autostimolati cerchiamo di stimolare anche il dipendente e per finire adesso abbiamo questa piattaforma da diversi anni di welfare dove il dipendente può utilizzare la parte variabile e con beneficio fiscale notevole per accedere a una serie di vantaggi questo siamo sull'85-90% di utilizzo e la cosa veramente positiva perché sono tutti i costi però c'è un ritorno che viene misurato che è legato al basso turnover cioè questa è un'azione concreta sul problema dello shortage del personale la difficoltà da quando lo state applicando questo? dal 2013 state notando all'inizio c'era scetticismo c'era una difficoltà nel parlare con un indipendente ci abbiamo lavorato siamo partiti dall'ascolto cioè siamo andati a capire quali sono quali fossero i bisogni dei nostri dipendenti e nel tempo li abbiamo migliorati perché la famiglia di un'azienda può essere diversa da un'altra da una località da un'altra e adesso c'è un'offerta estremamente completa per il dipendente che è famiglia per il singolo per la persona che deve andare in pensione e questo è estremamente diciamo misurabile con il basso turnover quindi bassi costi e soprattutto ci teniamo le competenze in azienda quindi questo è il secondo quindi il primo è l'aspetto della sostenibilità ambientale con le certificazioni questa è l'azione verso lo shortage del personale e la terza azione eccola qua me la dimenticavo scherzo è la governance che è l'argomento di oggi e in quanto questa è la foto del nostro consiglio di amministrazione e del collegio sindacale quello indietro un po' un po' col broncio del mio padre sulla mia sinistra è un caso che è un broncio è un caso è un caso perché era non era neanche freddissimo però magari qualcosa non è andato bene dopo ne parleremo e no sicuramente l'altro elemento che veramente ha dato valore nelle discussioni scelte per noi è stato il consiglio di amministrazione in particolare con la presenza di consigliari indipendenti esterni cosa che anche questo non è merito mio noi abbiamo avuto la fortuna di ereditare un'azienda bellissima avevamo il primo consigliere Nelson Persello nel 2003 il primo consigliere indipendente esterno che è entrato in San Marco nel 2003 dopo nel tempo è arrivato un altro e adesso ne abbiamo quattro consigliere indipendenti esterni e queste dopo avremo modo anche per parlarne se siete interessati però questo presenza di indipendenti esterni insieme ovviamente ai membri della famiglia è stato estremamente utile ovviamente per motivi di business come tutti voi anche noi abbiamo passato e cercato di superare il covid abbiamo superato il problema del materiale prima adesso stiamo cercando di superare il problema del personale ma anche aspetti di confronti idee diverse tra generazioni io sono la quarta generazione di mia papà la terza ma anche all'interno della stessa generazione a differenza dell'architetto io ho anche due sorelle ma entrambe entrambi lavorano quindi diciamo il consiglio sono più vecchie di te giusto sono più sì non si dice l'età no 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 si dice l'età hanno qualche anno in più di me Maria Lucia è responsabile di risorse umane e Marta è il CFO ma perché tu e tu Sio e io Sio e anche presidente perché perché cosa perché sei presidente e Sio rispetto alle tue sorelle perché sei il più piccolo sì sì sono il più piccolo sono quello che anche rompe di più in famiglia è quello in meritocrazia che dicevamo prima ma allora sicuramente il perché è perché mi sono candidato cioè infatti la domanda era ovviamente un po' secca ma per dire che lavoro avete fatto affinché ci sia stato questa condivisione che vi ha portato a fare questo passaggio quando nel 2000 questo nel 2021 21 quindi è molto recente certo dopo noi abbiamo anche una struttura di management quindi abbiamo il direttore generale e la prima linea che risponde al direttore generale sono manager quindi la managerizzazione era già in atto con il tuo padre no è stata diciamo è venuta soprattutto negli ultimi 5-6 anni 5-6 anni il primo direttore generale che è durato meno di un anno era un francese e era nel 2016 Charles il 16-17 e dopo da là abbiamo abbiamo si è promosso interni e anche diciamo portato competenze da fuori e diciamo durante il covid più o meno è stato un momento dove io sgambitavo da diverso tempo anche se ero giovane e mio padre è stato estremamente diciamo lungimirante perché noi avevamo fatto i partiti di famiglia questo diciamo più di 10 anni fa forse 13-14 e quindi lui comunque è ancora giovane ed era ancora più giovane 12-13-14 anni fa aveva insieme a me insieme al resto della famiglia già buttato giù le regole e già anche individuato un percorso da fare a meno di sua uscita quando lui era ancora in forza e dopo nel 2020 io mi sono candidato e come si dice mie sorelle mi hanno molto supportato mi hanno molto supportato sia con mettere una famiglia sia in azienda io ovviamente ero molto giovane quindi ho dovuto crescere ridurre il gap dell'esperienza con una formazione sempre tramite Ambrosetti ho fatto per 4 anni coach tutti i venerdì pomeriggio one to one adesso sto ancora facendo coach ma meno una volta al mese e ho fatto un programma in Francia in una business school perché sono molto giovane quindi tantissime cose e ancora sto facendo tanti errori tutti i giorni però ecco sicuramente mie sorelle sono state di grande supporto in questo passaggio quindi questa condivisione di valori ma anche di prospettive ha aiutato ad averla stata un po' meno in salita verso il tuo passaggio molto interessante poi torniamo ad approfondire un altro tema l'ultimo slide è termino queste come mi avete chiesto due informazioni sui numeri questo è il track record dell'azienda quest'anno dovremo chiudere su 125 milioni fatturato diciamo un'azienda che è sana cresce al di là delle crisi finanziarie degli incentivi fissionali del covid siamo sul 22% di EBITDA ecco una grande soddisfazione come si dice si cerca sempre anche di utilizzare anche strumenti di managerizzazione noi abbiamo lavoriamo con sia gli MBO i bonus annuali ma anche il long term incentive plan quindi i piani di incentivazione trennale per il management e diciamo ovviamente qua tocchiamo tutto mi tocco tutto però questo è il forecast mancano tre mesi e il forecast del 23% dovremo superare cioè dovremo supereremo gli obiettivi che ci eravamo dati al piano industriale 21-23% e quindi centrare al 100% questi piani di incentivazione quindi questa è una grande soddisfazione perché diciamo beh dal lato sono in bene i primi anni di gestione quindi per fortuna sono andati bene ma soprattutto nel 2021 mi sembrava di ricordare che c'è una bella impennata anche del fatturato mantenendo alto cioè il rosso è 100 e dopo 116 quindi ecco questo è un altro strumento che assolutamente molto diciamo aiuta poi per concludere questo è la l'assetto societario quindi c'è la capogruppo che si chiama San Marco Gruppo sotto a delle società all'estero e ha due soci mio padre Federico 25% Jeffin che è la holding che ne ha 75 e ci sono tre soci della holding di Jeffin Marta Mariluce e Devi che è la mia società è la mia holding e invece l'arbero genealogico è questo quindi appunto i tre fratelli e mia sorella hanno tre due figli io mi sposto a dicembre quindi mi auguro le prossime anni di fare tanti tanti bambini e fondatore Pietro Tamburini la nonna che purtroppo è mancata quest'anno è stata insieme a mio padre l'altro elemento molto forte in azienda è stata una donna veramente laureata no laureata tra le prime a laurearsi a Venezia è stata l'azienda che è la persona che ha diciamo trasformato una bottega come si dice da noi in Veneto l'azienda piccola in un'azienda più industrializzata e quest'anno ha l'età di 102 1901 102 anni e purtroppo è mancata comunque anche qui la spinta della donna che comunque è attualissimo il tema e comunque già in anni non facili per le donne e in settore ancora meno facili ancora di più certo quindi ancora esalta ancora di più lo spirito anche il DNA valoriale ospito di intraprendenza che poi avete continuato a percorrere anche voi e anche tu stesso ne sei il moderno testimone grazie grazie a te Marco grazie è sempre interessante entrare un po' per quello che vi ringraziamo nella vostra anche un po' intima organizzazione perché appunto ciascuno di noi poi si fa un po' l'esame ok nella propria azienda che difficoltà c'è ah sì però io ho le sorelle che litigano piuttosto che invece quelle di Pietro invece avevano quindi ciascuno poi fa i suoi viaggi e poi secondo me all'aperitivo qualche domanda vi arriverà ancora più ancora più diretta cosa dice Angelo andiamo un po' più riesci ad elencarci gentilmente un quasi un podio di 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 strumenti che avete messo in pista immagino diversi ma almeno un po' o due o tre quello che più ti senti di condividere con noi che ha consentito la strutturazione di una governance comunque efficace e quali eventualmente se hai voglia anche qui di risponderci immediatamente dopo qual è il prossimo step sì diciamo che la nostra esigenza era quella di darci delle regole come ho detto come ho detto prima che diciamo la terza generazione che è la mia è già una generazione più avanti della della sua come come età per cui avendo un numero di figli e nipoti che potenzialmente volevano o potevano entrare in azienda diventava fondamentale darsi darsi queste queste regole per la nuova diciamo per le nuove generazioni quindi se entrano i nostri nipoti come entrano con quali caratteristiche con quali esperienze abbiamo capito che stava iniziando a creare dei quantomeno dei malumori o delle incomprensioni perché senza regole perché uno sì l'altro no e con quali criteri per cui importantissimo è darsi queste 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 regole e far capire cosa che sembra scontata ma molto spesso non lo è quella che diceva prima anche Luca la differenza tra essere azionista ed essere invece avere un ruolo apicale operativo in azienda quindi questo culturalmente vi hanno affiancato nel farvelo capire quale ruolo nel farlo capire perché molto spesso anche qui c'è confusione interferenza io entro in azienda banalmente brutalmente prendo uno stipendio perché sono azionista no uno deve capire che in azienda mano a mano che si cresce si strutturano uno deve avere un ruolo se ha una funzione non perché sono figlio di o sono azionista questo è un passaggio che sembra banalissimo e scontato ma molto spesso vedo che non che non lo è e anche da noi alcuni lo riuscivano a comprendere altri invece magari facevano un po' più fatica per cui questo è stato molto importante far capire questa distinzione che è fondamentale e quello di darsi delle regole anche perché fare gli imprenditori è sempre stato difficile ci sono una serie di doti non devo spiegarlo qui in questo consenso che certamente lo sa benissimo però più si va avanti con la globalizzazione con tutte le difficoltà che ci sono che anche molto molto bene Pietro stava spiegando adesso anche tutte queste che sono ormai argomenti di ordine quotidiano se le aziende non si strutturano difficoltà poi possono emergere per cui oggi ci vuole sempre maggiore professionalità all'interno delle aziende qui non è più sufficiente essere azionisti essere figli del titolare ma bisogna avere e preparare un percorso per poter entrare in azienda questo è quello che noi stiamo facendo quindi ci sono ci sono stati ingressi manageriali o pensate di farli? pensiamo di farli pensiamo di avere prossimamente anche dei consiglieri esterni dei CDA loro sono partiti con questo padre ha detto ormai 13 anni fa mi sembro 10 anni fa consiglieri indipendenti 2003 primo addirittura 20 anni fa per quello diciamo hanno un percorso un'esperienza già acquisita ed è anche questo sicuramente un'esperienza oggi importante nelle aziende cioè il mondo si è aperto questa globalizzazione ha portato magari tanti tanti problemi però sta portando anche tante opportunità e ci obbliga a fare delle riflessioni al nostro interno per capire come le nostre aziende possono competere rimanere sul mercato e oggi la preparazione la professionalità è ancora più importante per cui la formazione anche dei giovani che entrano nell'azienda è importante noi ci siamo messi delle regole anche che uno non può entrare in azienda se non ha maturato certi livelli di esperienza in altre aziende per cui almeno per un certo numero di anni deve fare esperienza in altre aziende e non entrare immediatamente nell'azienda di famiglia è uno dei tanti esempi c'è anche una qualifica che deve o quantomeno un livello di istruzione minimo assolutamente sì è stato messo anche quello e per poi far parte di consigli di amministrazione una serie di requisiti sia meritori che anche di tipo accademici ecco che devono essere soddisfatti grazie e poi devono avere la cosa più importante che però non è mirabile la grinta e la voglia di fare l'imprenditore che è un mestiere fantastico ma che ben sappiamo difficile infatti ripercorrendo un po' con la statistica che vi raccontavo prima di quella bassa percentuale di giovani che poi vorrebbero intraprendere il percorso generazione in azienda gli altri rispondenti avevano indicato che volevano aprire una propria azienda una propria attività oppure all'interno essere anche alle dipendenze all'interno di gruppi più grandi rispetto a quelli dei genitori perché mediamente il 90-95% dei rispondenti era PMI quindi abbastanza piccole quindi anche l'attrattività è vero a volte di un'azienda PMI magari 30-40 persone con un fatturato più basso dei nostri amici Angelo e Pietro magari all'interno di una catena di fornitura business to business senza un grande nome eccetera eccetera potrebbe esserci anche una ridotta attrattività del giovane di cavolo aspetta prima faccio altro e poi valuterò che di per sé come esperienza non è male poi a volte dici però prima o poi torna verrebbe anche un po' da dire però è vero che se da un certo punto di vista si fa l'esperienza è vero che poi il talento poi facendo è facendo che esce fuori quindi ad ognuno poi è vero anche la propria strada se non c'è il figlio o nipote ci sarà il manager ma l'ente giuridico deve comunque continuare indipendentemente da tutto e da tutti grazie Angelo io vado con Pietro a chiedere qual è il prossimo step anzi prima una domanda che viene dal pubblico 11 componenti in CDA credo sia rivolta a te nel caso correggetemi non è che non si è in realtà voluto affrontare davvero il tema di scegliere chi entrasse in CDA e chi no questa è la domanda e i quattro consiglieri indipendenti che dimostrano sicuramente apertura mentale e modernità nell'approccio di sceglierne ma non sono troppi ecco questi alcuni timori o dubbi che magari a qualcuno viene ascoltando il tuo caso non so se hai piacere di rispondere perché poi ogni caso a sé io non ho la verità anzi come si dice il petto sono in un'azienda da 11 anni sono il più giovane qui quindi è difficile dire questo è giusto o questo è vero io porto la nostra esperienza e la nostra esperienza insegna che avere i consigli indipendenti esterni è fondamentale perché innanzitutto ti dà dopo rispondo ai commenti ti dà metodo e ti evita l'auto referenzialità esatto referenzialità dobbiamo prepararci molto prima dobbiamo mandare i materiali tre giorni prima dobbiamo mandare l'ordine del giorno va fatto il riporto dobbiamo essere tutti molto preparati perché questi signori vengono pagati sono indipendenti e quindi rompono le palle in consiglio per usare un francese li stimolano anche e questo quindi ci permette me permette nel senso tra virgolette tra virgolette me e l'organizzazione di diciamo essere preparato e quindi c'è sempre qualcuno a cui ti devi rispondere in consiglio noi siamo in nove l'immagine teneva perché lì sono tre del collegio sindacale ci sono nove consiglieri e c'è il segretario quindi erano più persone noi siamo in nove del consiglio e ci sono quattro consiglieri della famiglia che è mia sorella Marta mia sorella Mailucia mio pa' Federico mia amma Antonella io sono presidente quindi diciamo abbiamo portato tutti in famiglia a parte che c'erano anche prima quindi tutta la famiglia è rappresentata è ben rappresentata e poi ci sono quattro indipendenti esterni e io penso che ovviamente non diciamo non c'è una regola a mio avviso che vale per tutti nel nostro caso avere un bilanciamento 50-50 vedendo l'esperienza di questi anni è stato molto utile molto utile e primo motivo quindi uno è il bilanciamento e il secondo motivo è la cosiddetta diversity la diversità rappresentata in consiglio noi abbiamo il professor Camuffo Arnaldo Camuffo della Bocconi che lui è specializzato in organizzazione e lean quindi tutto l'aspetto organizzativo e lean abbiamo la persona che ha competenza abbiamo Sonia Bonfiglioli che è una nostra collega un'imprenditrice di Bologna che lei è un ingegnere ha fatto tutta la carriera in azienda nel mondo operation e lei rappresenta tutto il mondo industriale quindi la persona diciamo molto di fabbrica oltre ovviamente di essere imprenditrice aver visto la sua azienda fa un miliardo e tre adesso aver visto tante tante cose e poi abbiamo Danny Winteler che come dice è stato visto diverse aziende italiane e diciamo lui rappresenta il mondo della finanza lui viene dal mondo diciamo Exor e anche di altre aziende diciamo nella sfera di Torino e lui rappresenta il mondo della finanza quindi molto i numeri e molto anche l'attività M&A di cui raccontavo prima il quarto Silvano Storer e Silvano Storer è stato un manager di diverse aziende che diciamo ha quotato che ha gestito diciamo il passaggio ha visto passaggi nazionali e ha visto diciamo la presenza anche sia di diciamo anche di aziende che sono andate male quindi ha visto anche casi da evitare e loro hanno capelli bianchi hanno esperienze diverse e rappresentano degli elementi che per la nostra strategia sono molto importanti quindi se un'azienda riesce a quadrare i conti avere un bilanciamento con la famiglia e avere una rappresentanza delle parti diciamo più importanti nella nostra esperienza diciamo è molto positiva e questo ovviamente non sono cose che io diciamo ho scoperto perché diciamo noi siamo clienti di Ambrosetti e insieme al patto di famiglia che è anche il percorso del passaggio generazionale che è un percorso che dura diversi anni non è mai finita e veniamo seguiti da Ambrosetti questo è un'altra diciamo sfera che ci siamo fatti aiutare con con Ambrosetti quello di migliorare la governance il sistema decisionale la presenza degli indipendenti e che adesso ci permette all'azienda di convivere due generazioni superare difficoltà di mercato evidenti e diciamo anche riuscire a trovare il tempo per venire in questi bei convegni con persone molto interessanti grazie grazie Pietro qual è il prossimo step a livello di governance il prossimo step a livello di governance allora due mesi fa abbiamo inserito l'internal audit abbiamo inserito quando tu citavi risk management noi lo facciamo per ora da un punto di vista diciamo di certificazioni le varie ISO adesso abbiamo inserito un collega Marco che si occupa di internal audit che è una garanzia innanzitutto per noi il presidente ma anche per l'azienda quindi anche qui è in ottica di creazione di valore e questo quindi noi cerchiamo diciamo noi vogliamo rimanere privati non quotarci però cerchiamo di adottare le buone pratiche delle public company internal audit ISG indipendenti interessante scusami apro chiudo il volo poi Angelo non quotarci perché? perché non abbiamo bisogno adesso perché la quotazione io penso è uno strumento per arrivare a un obiettivo la raccolta della liquidità o la diciamo diluire il capitale è uno strumento a noi adesso questo strumento non ci serve quindi non abbiamo bisogno quindi sicuramente fare continuare in questo percorso verso la gestione dell'azienda moderna e dell'azienda moderna e il secondo passaggio è quello che l'architetto ha già fatto per le prossime generazioni noi ancora ci manca quindi no avete visto che ci sono dei nipotini io vorrei avere dei figli quindi dobbiamo noi mettere le regole per il futuro e gli spunti che sono stati detti l'esperienza fuori all'estero o in altre aziende sono sicuramente molto utili sono molto utili quindi sicuramente guardare anche per il futuro della famiglia e dell'azienda quando ci si chiede ma qual è il momento in cui bisogna pensare a queste cose quando non ne hai bisogno quello è il momento migliore perché non c'è conflittualità emotiva e non c'è tutta quella quella sfera legittima ma purtroppo che poi fa un po' a botte con la razionalità la performance e la managerialità Angelo hai voglia di condividere con noi se tu tornassi indietro non so di qualche anno o a livello del percorso di governance cosa vorresti fare meglio che hai un po' un pizzico diciamo così di rimpianti e non averlo fatto meglio poi tutto sì no certo sempre si può fare meglio è ovvio però quell'attenzione che avresti voluto dare sicuramente il po' rammarico quello che avremmo dovuto iniziare prima questo questo percorso che avrebbe giovato tutto anche nella serenità dei rapporti all'interno del nucleo familiare devo dire i rapporti sono eccellenti però ci sono stati anche dei momenti dove chi non era operativo rispetto a chi era operativo c'erano delle divergenze di di vedute per cui il fatto di avere un maggiore coinvolgimento anche attraverso il patto di famiglia è anche uno strumento anche per rendere tutti più partecipi anche quelli che non sono all'interno di un CDA e questa è una cosa molto importante lo vedevo il suo nucleo familiare è ancora piuttosto ristretto per cui ognuno ha le sue caratteristiche e certamente immagino anche difficoltà perché tutti ce le abbiamo però quando è ristretto è generalmente un po' più semplice più si allarga più le difficoltà possono aumentare poi se tutti sono in azienda magari ci sono dei vantaggi perché tutti sono partecipi nelle scelte aziendali o nel vivere comunque l'azienda e condividere un certo percorso quando non è così ci sono altre possono essere degli aspetti positivi perché magari uno nell'operatività quotidiana è più libero però poi quando le cose vanno bene sono relativamente contenti che magari si aspetterebbero di più quando le cose come succede nell'arco della vita di un'azienda vanno meno bene evidentemente i criticità i mal di pancia possono aumentare per cui darsi proprio queste regole di comportamento e di governance sono veramente importanti il rammarico è di non averlo fatto prima per tempo come diceva adesso anche Pietro ai figli non ancora i nipoti giovani ecco pensarci per tempo dà anche quel distacco e forse si riescono a prendere in maniera più serena e oggettiva delle scelte che invece inevitabilmente magari fatte dopo portano dei condizionamenti il mio invito è farlo per tempo chiarissimo muoversi per tempo anche se sembra magari una cosa lontana remota ma è bene pensarti davvero per tempo grazie grazie un messaggio molto chiaro secondo me siamo un po' gli sgoccioli non siamo a fare queste chiacchierate sono così stimolanti che poi quel tempo comunque al suo corso hai voglia di condividerci un aneddoto o un fatto che che tu ho detto cavolo vuol dire che quello che ho messo in pista dal punto di vista di continuità generazionale sta funzionando magari anche qualcosa di divertente o magari invece meno divertente ma sai magari ci sono dei fatti in cui dici oh così vuol dire che la cosa ha funzionato non l'immaginavo due anni fa è accaduta e vuol dire che siamo sulla strada giusta a livello divertente magari cioè sono percorsi complessi e le aspettative sono sono diverse però devo dire che mi fa molto piacere che sia aperto un dialogo molto franco all'interno della famiglia alcuni passi importanti li abbiamo già fatti i CDA verranno rinnovati con le nuove regole siamo tutti d'accordo su quello una politica di dividendi l'abbiamo l'abbiamo con un po' di discussioni fatte perché c'è chi magari è più operativo e vede l'azienda con maggior non dico senso di responsabilità perché c'è da parte di tutti però preferisce capitalizzare l'azienda chi invece non è all'interno dell'azienda delle aspettative delle aspettative diverse questo passaggio è molto critico è critico non è un aneddoto però devo dire che su queste cose c'è stata un po' di discussioni ma alla fine si è trovato una condivisione adesso abbiamo degli ulteriori passaggi che sono particolarmente delicati che stiamo definendo adesso che sono quelli dei compensi e dei benefit che sono altri argomenti molto molto delicati e che contiamo però di risolvere a breve anche questo il percorso è tracciato grazie grazie voglio Pietro di condividere un fatto un fatto simpatico e allora con piacere vi chiedo di farci un augurio agli imprenditori che inizieranno se vorranno in modo molto veloce e credo sette otto anni fa avevamo fatto il passaggio di staffette con mio padre sulla gestione commerciale dell'export l'export è molto importante per noi tanti clienti e nella mia gavetta io ho gestito i clienti all'estero con il team sales team commerciale e prima era mio padre quindi mi hanno fatto il passaggio di consegne e lui è stato un grande perché è stato ha passato ma non solo nel biglietto di nuova visita ma anche nei fatti e allora era divertente perché sette otto anni fa c'era un meeting con i clienti tipo noi in questa sala c'erano delle tende là in fondo e mi hanno detto che mio padre non era qua proprio per permettermi a me di avere diretto contatto con i clienti anche diciamo di non oscurare perché lui ha un carisma soprattutto sette otto anni fa molto molto forte e mi hanno detto che mio padre era dietro le tende a guardare perché voleva essere là ma era bravo da tenere quindi prima cosa simpatica poi cosa è successo nel 2021 quando ho preso il ruolo di presidente e mi sono delegato io gestivo tutta la parte sales e marketing Italia adesso di tutti i marchi e ho inserito un manager che viene uno che è alto due metri e tre giocava a palla e canestro e avevo tutta la mia squadra che no erano otto persone otto riporti che avevo creato nel tempo e dovevo passare questi al manager che io mi dovevo fare un passo indietro e allora lui dopo tre quattro giorni che era in azienda ha fatto una cena io lo so apputo era un ristorante vicino alla fabbrica e stavo passando ho detto dai vado vedere e a questo ristorante ha delle vetrate mi sono fermato ho sbirciato ho detto porco Giuda sto facendo con mio padre sette otto anni fa e quindi però diciamo il fatto è positivo è che come si dice che non è semplice perché capisco l'imprenditore no io sono solo da dieci anni mio padre ha fatto quarante anni che vive l'azienda quasi fosse il corpo e non è facile non fare un passo indietro è stato secondo me quello che adesso mi collego alla tua ultima domanda sicuramente il tempismo secondo me è fondamentale cioè quello che diceva l'architetto cioè fare queste discussioni nel momento non troppo tardi nel momento dove c'è l'imprenditore che ancora è in vigore o l'imprenditrice che è ancora in vigore e che diciamo l'azienda va bene che c'è serenità quello è un momento magico e ce lo insegna Ambrosetti per fare queste discussioni per instaurare un certo tipo di percorso e l'altro suggerimento che posso dare è sicuramente farsi aiutare cioè in questo caso farsi fare le cose in casa a mio avviso non se ne esce cioè tutti hanno una propria idea non si ha le competenze perché non è che hai fatto dieci passaggi di legge nazionale quindi il mio consiglio è farsi aiutare avere un arbitro noi ci siamo trovati benissimo con Ambrosetti e per ultimo avere tanta pazienza perché come si dice i mal di pancia ce ne sono i mal di pancia ce ne sono il percorso è una maratona io non ho i capelli bianchi quindi bisogna anche ascoltare chi ha i capelli bianchi però bisogna avere pazienza sì pazienza aggiungo se posso anche l'autorevolezza del consulente è fondamentale perché se lo fa in casa o con degli aiuti non di primo livello è più difficile far recepire determinati concetti che se invece vengono esposti con autorevolezza è certamente più più facile farli farli capire comprendere e farli apprezzare anche grazie beh quindi riassumendo l'augurio che ci fanno Pietro e Angelo mi viene da dire pazienza sana pazienza affiancamento professionale tempestività tempestività il concetto prevenire è meglio che curare insomma prima che venga il mal di pancia è meglio insomma gestirla piacere che tra i presenti e quelli collegati erano circa 100 persone questo è molto importante perché vuol dire che le aziende qui del territorio sono consapevoli dell'importanza di questo di questo strumento e di questo passaggio generazionale quanto è delicato grazie ce la mettiamo tutta grazie vi chiedo di accomodarvi grazie 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 Angelo chiedo Matteo scusate perché la ciliegina si mette adesso sulla torta quindi la bellezza e la completezza di questo percorso non può accadere senza il gruppo giovani imprenditori di Confindustria Baron quindi Matteo qui con noi stasera perché Matteo e dimmi magari un tips al volo come hai sentito la serata e poi dici cosa ci vuoi dire cosa accadrà no nessun tips adesso parte il sermone però davvero grazie Marco per l'introduzione per chi non mi conoscesse sono Matteo Avassori presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Bergamo nonché successore anche di Marco e il tema del passaggio generazionale è un tema che diciamo caratterizza ogni come dire ogni mandato di tutti i presidenti di tutti i gruppi di tutta la nata dei giovani imprenditori tant'è che l'altro giorno durante il nostro direttivo uno dei nostri dice ma andiamo ancora a parlare di passaggio generazionale sì andiamo ancora a parlare di passaggio generazionale e ancora con più forza perché i dati che hai fatto vedere tu i dati che hai fatto vedere tu ce li avevo qua anch'io non ve li dico ma quel fantomatico 15% che è emerso durante una banalissima alzata di mano è un dato che ho anch'io qua sui miei sui miei appunti e questo è un problema perché più andiamo avanti più invecchiamo e meno andiamo a pensare a quello che deve essere un qualcosa di naturale nel percorso di crescita aziendale se me lo concedi Marco io vorrei fare davvero tirare giusto dare due commenti su quello che ho visto oggi innanzitutto ti ringrazio Luca e ringrazio quindi Ambrosetti per quella slide con il podio che hai che hai fatto vedere ho avuto giusto venerdì sera una conversazione uno scambio di battute con un amico anche lui imprenditore e lui mi dice io non capisco assolutamente quei ragazzi i nostri coetanei che passano 12 13 18 ore in azienda sabato la domenica in azienda quando in realtà dovrebbero non dovrebbero fare altro che managerializzare l'azienda e starne fuori pensare ad altro ecco io non andrei a demonizzare o a esasperare troppo il fatto o meglio questa posizione di questo mio mio amico però enfatizzerei molto un aspetto che l'obiettivo dell'imprenditore almeno dal mio punto di vista non è tanto quello di massimizzare il profitto aziendale ma è quello di massimizzare la valorizzazione aziendale che è un concetto ben diverso e che hai ben esplicato all'interno della slide quindi questo deve essere il primo punto di qualunque imprenditore è chiaro che questo passa anche da una gestione del passaggio generazionale fatta in maniera corretta e aiutati anche da persone che ne sanno di più di noi sotto questi punti di vista l'altro punto che ha accomunato invece le le esperienze di di Pietro e di e di Angelo è stato quello di far vedere sulle slide le alberi genealogici sembra banale ma tanto banale non è perché solo mettendo nero su bianco quella che è la struttura della tua azienda tu vai a capire quelle che possono essere delle complessità che nasceranno in futuro e questo penso che sia una piccola pillola che già questa sera mi porto a casa di fare questo esercizio e dire bene ma da qui ha cinque anni da qui ha dieci anni come cambierà la mia azienda a livello chiaramente di governance di struttura aziendale di tutta una serie di aspetti che sicuramente saranno da gestire quindi Marco qua cito te invece con grande senso del dovere come giovane abbiamo voluto assolutamente salire a bordo di questo di questo bellissimo bellissima serie di eventi che ha organizzato soprattutto sul tema del in questo caso del passaggio generazionale e questo e qua mi rivolgo alla nostra presidente che è qua con noi questa sera penso che sia un primissimo esempio di una sinergia che si viene a creare all'interno del consiglio presidenza di Confindustria Bergamo e quindi vi abbiamo lasciato al non c'è una slide tap ma nessun problema lavoriamo ancora sulla carta vi abbiamo lasciato questo volantino dove andiamo a presentare questa spin off lo possiamo chiamare così queste tre verticali sempre organizzate con il supporto di Luca e con il supporto di di Ambrosetti dove cercheremo di entrare molto più nel dettaglio un pochino in più nel dettaglio su tre temi e qua cerco di rassurirlo ma alla fine sono dei temi che sono emersi anche questa sera struttura societaria sette societari i percorsi di crescita altro tema che è emerso questa sera se un giovane ha la volontà di entrare in azienda cerchiamo di farlo attraverso un percorso di crescita guidato e poi anche un sistema quindi un sistema di regole che dovremo mettere necessariamente per andare a come dire governare quelli che sono prima i quattro familiari che poi diventano sedici che poi diventano trentadue ve l'abbiamo detto con largo anticipo quindi il mio invito è quello di segnare nostro invito di segnare a calendario queste date ma soprattutto io vi chiederei davvero la cortesia ai junior di portare questo volantino ai senior e ai senior di fare antrettanto con i junior perché è il desiderio mio e di Marco di vedere nel il 5 dicembre scusate con le date non non ci siamo ancora di vedere questa sala gremita davvero a bracetto con senior e junior per cercare di creare quella sana discussione l'ora dopo durante l'aperitivo il giorno dopo i mesi dopo che possa davvero aiutare l'azienda a iniziare quantomeno a pensare ad un processo meglio a un processo di gestione del passaggio generazionale io qua concludo lascerei a te la parola Marco l'unica parola per dire non so se Giovanna è piacere e voglia altrimenti innalziamo il livello di glicemia grazie al nostro aperitivo quindi speriamo di vederci presto grazie grazie a tutti grazie a tutti